Buongiorno a tutti cari amici, sono qua in compagnia di un ospite di eccezione, il grande amico che ringrazio, Omugui Evans Osau, che è autore forte di più di un milione e mezzo di visualizzazioni direttamente dalle trasmissioni delle Iene, volevo salutare tutti, volevo ricordarvi e farvi informarvi che presto, fra pochi giorni, molto presto, le bellissime canzoni di Evans le potrete trovare su Spotify e quindi troverete fra pochi giorni, ripeto, tante sue belle canzoni, fra cui la hit del momento, io ballerò finché Renzi mi pagherà i miei soldi e Africa lontana, Africa vicina, che è un testo a cui ho collaborato io e appunto tante tante altre belle canzoni, quindi prestissimo, fra pochi giorni, credo 4-5 giorni, queste bellissime canzoni saranno disponibili per tutti voi su Spotify, vi ringraziamo, vi salutiamo e a presto, arrivederci. A presto, grazie a tutti.